Ciao a tutti, volevo incontrarvi molto molto velocemente perché questo pomeriggio è giunta la notizia dell'epilogo del processo in primo grado per il collasso della Banca Popolare di Vicenza. Voi ricorderete che nel 2015 a seguito del trasferimento delle attività di controllo sui 15 maggiori istituti di credito italiani da Banca d'Italia ad organismi di vigilanza europei si scoprì che le due popolari venete, quella di Vicenza e quella appunto del Veneto, non stavano affatto bene, anzi avevano dei problemi di capitalizzazione e di patrimonializzazione enormi, si scoprì che cosa fossero le operazioni baciate, che in pratica erano delle stronzate grandi quanto una casa se non di più, l'istituto di credito finanziava il cliente a patto che lo stesso comprasse azioni oppure obbligazioni subordinate dell'istituto di credito finanziatore. Tutto questo di fatto eludeva un vincolo posto da un articolo del Codice Civile favorendo illecitamente la banca che permetteva questa schifezza. Si è innescato poi un crack che dovrebbe aver prodotto un danno alla comunità nazionale di circa 6 miliardi di euro e oggi a Vicenza si è arrivati all'epilogo del processo di primo grado, un processo enorme se non ricordo male con 116 udienze e con ben 8 mila parti civili, cioè 8 mila cittadini danneggiati dal comportamento assolutamente scorretto degli amministratori della banca. Benissimo, dopo il dibattimento iniziato nel 2018, quindi dopo circa due anni e mezzo, oggi abbiamo saputo che Gianni Zonin, detto il vignaiolo perché fra le altre cose l'ex amministratore delegato della Popolare di Vicenza aveva la passione per il vino, Gianni Zonin è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione, insieme ad altri personaggi che hanno condiviso con lui la responsabilità della gestione dell'istituto di credito berico, ma poi la notizia su cui volevo ragionare con voi era quella che, oltre alla condanna detentiva, è stata anche determinata una confisca per equivalente per oltre 963 milioni di euro a carico dei condannati. 963 milioni di euro sono soldi e quasi un miliardo di euro. È vero, il danno è stato di 6 miliardi di euro e probabilmente sono pochi 6 miliardi. Però intanto cominciamo a riprenderci quasi un miliardo di euro a carico dei condannati. Vi ricordo che, avendo saputo dell'avvio delle indagini a suo carico, Zonin trasferì attraverso donazione ai familiari buona parte del suo patrimonio personale. Vi ricordo che si trovò su un conto corrente di una banca milanese un piccolo tesoretto di circa 100 milioni di euro, appunto riconducibili a Gianni Zonin. Però ecco, questo vi deve far capire che una delle battaglie per cui era nato il Movimento 5 Stelle, di cui sono stato fiero e convinto esponente e sostenitore, era quello di far giustizia sociale. E giustizia sociale significa anche che se sbaglia un grosso non debbono pagare i piccoli, ma deve pagare quel grosso perché la responsabilità penale innanzitutto è personale. Questi signori hanno usato soldi non loro per arricchirsi e per fare operazioni scandalosamente speculative. Queste operazioni non sono andate a buon fine, mi si rilassero.